Buongiorno, quattro e mezzo del mattino e stiamo andando in aeroporto. Ok, andiamo a prendere Clelia e Raffo o ci direggiamo in aeroporto. Contenta io? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ok, siamo arrivati all'aeroporto di... questo è Bergamo, di Bergamo, Oreo al Sirio. E aspettiamo... Sono arrivati Terroni, Aronco e Coioni, a noi Lombardi. Siamo Terroni al nord. Praticamente siamo in cinque persone e abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Tutta una casa. Si vede che siamo Terroni al nord. E' stupenda questa casa, sai, me ne sono innamorata. No, we'll come siamo in cinque. A suudio. Me la pari. che si minchia Grazie a tutti Grazie a tutti Chloe Chloe prendilo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti